Durante la pandemia si è fermato tutto, ci siamo sentiti spaventati, arrabbiati, confusi, non sapevamo cosa sarebbe accaduto. Ciò che subito è stato chiaro è che saremmo rimasti chiusi molto a lungo nelle nostre case. Malgrado la grandissima preoccupazione, il mio primo pensiero è stato questo. Se non lo faccio adesso, che ho tutto questo tempo, non lo farò mai più. Da tanti anni avevo un sogno, scrivere un libro sulla mia pittrice preferita. Tamara Dell'Empizca. Tamara Dell'Empizca è stata una ritrattista, una pittrice molto famosa, soprattutto negli anni 20 e 30 del Novecento a Parigi, anche se si è rinnovata lungo tutta la sua vita. Dipingeva donne molto eleganti, sensuali, ricche, raffinate. I suoi nudi erano molto provocanti, scandalosi, ma mai volgari. La sua vita è stata molto lunga e molto, molto movimentata. Aveva uno stile unico, non copiò mai da nessuno, non aderì a movimenti, a gruppi. E per lungo tempo mi sono chiesta come mai nessuno avesse mai deciso di scrivere un romanzo su questa vita così particolare. Era una donna emancipata, intraprendente, una donna libera, soprattutto per l'epoca in cui è vissuta. Così, non appena è stato sancito lo stato di lockdown, ho detto, ok, ci provo, lo faccio io. E quindi ho iniziato subito a ordinare tutte le monografie e i libri che ancora non possedevo su di lei. Mi era venuta subito la paura che anche i corrieri non avrebbero più consegnato i nostri ordini e che saremmo rimasti completamente isolati. Quindi ho comprato tutto ciò che dovevo prendere. E mi sono catapultata subito nella ricerca storica. Ho cominciato a studiare, a fare scalette, collegamenti, a guardarmi tutti quanti i video d'epoca che si trovavano nel web. E dopo questo lungo, lungo lavoro che è stato, diciamo, la cosa più corposa, il lavoro più corposo per la scrittura di questo libro, ho iniziato a chiedermi chi avrebbe raccontato questa storia. Parlare in terza persona mi sembrava un po' impersonale e parlare con la voce di Tamara Dell'Empizca è ancora un po' il mio mito e lo trovavo un po' irrispettoso. Quindi ho deciso di dare voce a Rosalia, che incontra la pittrice quando entrambi hanno 16 anni a Pietrogrado e le rimane accanto per un lungo periodo delle loro vite. Prima diventando la sua governante, poi la sua amica, confidente, infine addirittura la sua musa ispiratrice. Parigi, Londra, New York e Roma, Firenze, sono soltanto alcune delle città che fanno da scenario alle vicende narrate, che sono tutte vicende storiche realmente accadute e che si intersecano proprio con i fatti più importanti dell'epoca, come la rivoluzione russa, la crisi economica americana, la seconda guerra mondiale e poi i moti sessantottini. Insomma, tramite Rosalia riusciamo ad avere una visione a tutto tondo di Tamara Dell'Empizca. Ho cercato appunto di dare uno sguardo intimo sulla vita di questa pittrice. Qualche mese dopo sono riuscita a pubblicare questo mio libro, che si chiama appunto La governante di Madame Dell'Empizca, e questo libro è stato davvero importante per me, perché mi ha rimesso in connessione con il mondo dell'arte, che è stato un mondo a cui sono stata molto vicina con i miei studi, prima al liceo artistico, poi con l'Accademia di Belle Arti, ma dal quale mi ero un po' allontanata. E soprattutto mi ha messo in sintonia ancora di più con il mezzo espressivo che adesso prediligo, che è quello della scrittura. E sono stata talmente presa da questa storia che subito ho iniziato a guardarmi intorno per cercare un'altra figura a cui dedicare un prossimo lavoro, un prossimo libro. E ho iniziato proprio dai miei libri di storia dell'arte, i miei vecchi libri di scuola. E mi sono trovata subito davanti ad una amara verità. E cioè che il numero delle artiste e donne presente proprio nei libri di storia, dove gli studenti imparano la storia dell'arte, è nettamente inferiore a quello degli uomini. Ma questo perché ci sono state comunque delle artiste che hanno dato il loro grandissimo contributo al mondo dell'arte. E sono riuscite anche a crearsi proprio una professione nei secoli. Ma chi sono queste donne? Soprattutto nell'antichità erano donne nate in ambienti artistico. Erano figlie o sorelle di pittori oppure scultori o mercanti d'arte che appunto bazzicavano già un ambiente che consentiva loro di imparare la professione. altre artiste molto conosciute, più o meno conosciute, erano le suore. Perché nei monasteri le suore, oltre a dedicarsi alla preghiera, imparavano comunque la pittura, la miniatura, a volte anche l'architettura. E grazie a queste loro competenze riuscivano addirittura a contribuire al mantenimento dei luoghi in cui vivevano, dei conventi. Altre donne, pittrici, soprattutto le troviamo nelle corti europee a seguito di aristocratiche, di cui divennero le ritrattiste, più o meno ufficiali. Molte erano dame di compagnia che proprio entrando in grande sintonia con queste persone riuscivano ad offrire una visione nel ritratto molto intima. Le donne artiste si occupavano di paesaggistica, di natura morta, di ritratto. Potevano occuparsi di questi temi. Una cosa che a lungo non poterono fare fu quella di copiare il corpo nudo. In certa epoca fu proprio a loro vietato, assolutamente vietato, copiare un corpo nudo in un'accademia. Potevano essere modelle, potevano stare nude in mezzo alla gente, ma non copiare un corpo nudo. La storica dell'arte Linda Knucklin dà una risposta alla domanda che dà il titolo al suo saggio più famoso, che è questo, perché non ci sono state grandi artiste. Ed è proprio questa la questione. non ci sono state grandi artiste, perché le donne non hanno potuto frequentare i corsi di pittura e scultura al pari dei loro contemporanei. Pensate che l'Ecole des Beaux-Arts, che era la scuola più famosa a Parigi, che era appunto al centro dell'arte, è stata al centro dell'arte per secoli, è stata vietata alle donne fino al 1897, cioè quasi fino al 900. Prima di allora le donne potevano formarsi negli atelier di pittori che facevano passare la loro presenza ai loro corsi, oppure frequentavano queste nuove accademie che erano sorte dopo la seconda metà dell'Ottocento in città, ed erano accademie private, un po' meno tradizionaliste rispetto alla scuola ufficiale. Ma attenzione, perché in queste accademie potevano avere accesso pagando una retta pari al doppio di quella dei contemporanei uomini. Perché? Perché l'arte per le donne era un lusso, e i lussi, sappiamo, si pagano. Comunque, nonostante tutto ciò, ci sono state delle donne che hanno dato un contributo importantissimo al mondo dell'arte. Io da poco ho aperto questo blog, la cui sezione principale si chiama Storie di artiste straordinarie, ed è un mio piccolo contributo per ricordare queste persone, per far conoscere queste persone. Ma io credo che la cosa principale, ciò che andrebbe fatto a questo punto, è rivedere i libri di storia dell'arte, i testi scolastici, e non parlo dei testi della scuola secondaria di secondo grado, dove la storia dell'arte è una materia di contorno molto spesso, ma parlo anche dei testi universitari. Bisognerebbe rivedere questi testi per offrire agli studenti e ai giovani una formazione che parli di uguaglianza. Io credo che la storia non si possa cambiare, ma si possa riscrivere, ed è veramente ora di cambiare rotta. Grazie. Grazie.